Partita ufficialmente l'agenda digitale di Roma Capitale, che una volta terminata sarà frutto di un'ampia riflessione condivisa e partecipata da tutti gli interessati e costituirà il documento strategico per operare la trasformazione digitale dei servizi verso il cittadino, le imprese, i turisti, i visitatori della città. Noi abbiamo chiesto all'assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, di raccontarci il progetto. Diciamo che è una modalità digitale di far sì che tutti i cittadini possano comunque fruire dei servizi online e non solo e quindi garantire una maggior partecipazione, una maggiore trasparenza e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza anche grazie alle tecnologie. I servizi che inseriranno all'interno sono tanti, alcuni già esistenti, come l'iscrizione alla scuola pubblica, ma saranno inserite anche tante innovazioni come quella dello Speed. Speed è un brutto acronimo che sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale, cioè uno strumento che permette al singolo cittadino di poter interagire con la pubblica amministrazione con un unico codice username e password in maniera che possa facilmente poi fruire di tutti i servizi. Non era obbligatorio a breve, nel senso che la scadenza era a dicembre del 2017, ma abbiamo cominciato a farlo in maniera proprio per garantire la fruizione dei servizi online. Come possono contribuire i cittadini a questa importante iniziativa e soprattutto come pensate di inserire quei cittadini che magari non usano spesso internet? Sì, sono due cose in parallele in effetti. Allora la prima, oltre alla consultazione che abbiamo fatto in diretta con associazioni e con i municipi, ovviamente per chiedere loro che cosa ci consigliavano di inserire nell'agenda digitale, è partita anche una settimana fa la consultazione online. Quindi la prima parte dei cittadini, quelli che online sono già in grado di esserci, possono già e hanno già iniziato a fornirci commenti, proposte, idee per fare un'agenda digitale condivisa ed è aperta fino al 3 di dicembre, quindi chiunque voglia può continuare a collaborare. Per la seconda parte, ovviamente sì, purtroppo a Roma ci sono circa 900.000 persone che non sono mai state in internet e quindi non possiamo escluderle, ovviamente non possiamo, non vogliamo escluderle. E per questo abbiamo attivato quelli che abbiamo chiamato punti Roma Facile. Sono dei punti dove la persona con scarse competenze digitali o con nessuna competenza o capacità o disponibilità economica di avere il digitale potrà andare a trovare qualcuno che sia in grado di supportarlo o supportarla per fare servizi online. Non soltanto per l'anziano come ci si può immaginare ma anche per i giovani diciottenni per esempio che adesso devono fruire del bonus famoso, devono farlo assolutamente solo esclusivamente online quindi potrebbero anche loro avere bisogno di supporto e quindi anche per loro ovviamente forniamo servizi, li abbiamo chiamati punti Roma Facile. Un'ultima domanda, tutto ciò comporta una maggiore trasparenza? Assolutamente sì, siamo già partiti sulla trasparenza anche su alcune cose che sembrano banali ma banali non sono tipo la open agenda, l'agenda del mio assessorato è aperta quindi mia e dei collaboratori sapete dove sono, con chi e quando open bilanci che è un'altra cosa molto importante, i bilanci sono già trasparentemente pubblicati in tutti i siti delle pubbliche amministrazioni perché obbligatorio ma sono pubblicati in un formato poco comprensibile da chi non fa questo di mestiere. Noi li abbiamo pubblicati con grafica in maniera tale che uno possa capire velocemente cliccando su un grafico che cosa si spende, perché ma soprattutto prendendo i dati degli ultimi dieci anni quindi un cittadino può confrontare gli ultimi dieci anni, quindi le ultime quattro amministrazioni e da qui in avanti ovviamente anche la nostra per vedere come mai su quel capitolo di spesa il sindaco A ha speso di più del sindaco B o viceversa e quindi anche questo è un passo verso la trasparenza.